Benissimo, benvenuti. Siamo nell'area FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e come Oliofficina Magazine, ma è anche una realtà molto più ampia, perché c'è tutto un progetto culturale dietro queste due parole, Olio Officina. Olio Officina significa tante cose. Intanto è una casa editrice, e come casa editrice pubblica riviste in edizione cartacea, in edizione digitale, come giusto che sia, ed è anche una realtà che promuove il design. Ecco il motivo per cui qui ci sono ben tre designer, e che naturalmente in un contesto come quello odierno, in cui si parla di ripensare un po' gli spazi, di riconcepire gli spazi della ristorazione, sicuramente i designer hanno un ruolo molto importante. Ma noi abbiamo anche qui, come rappresentante del mondo della ristorazione, quindi degli chef in particolare, Francesca Bodini, che è responsabile istituzionale della comunicazione, dell'APCI, che sta per Associazione Professionale Cuochi Italiani. Abbiamo la dottoressa Brogini, che rappresenta la FIPE. Questa realtà è molto importante perché naturalmente riunisce in sé tantissime altre realtà che coprono un vasto territorio. E sicuramente il mondo della ristorazione è un mondo che può veicolare, molto meglio di altre realtà, un prodotto così complesso qual è l'olio ex-vergine di oliva. Ecco, ripensare gli spazi della ristorazione può sembrare anche un po' una idea ardua, perché d'altra parte i ristoranti sono già ben arredati, già ben concepiti. E tuttavia noi vogliamo pensare anche a dei ristoranti che si aprano a una visione futura, nel senso che avendo noi a disposizione anche dei concetti nuovi di prodotto, nel senso che pensando all'olio ex-vergine di oliva era soltanto un'oliera un tempo, poi dopo si è trasformata in qualcosa d'altro, addirittura sono intervenute anche delle leggi che hanno poi spinto ad avere delle bottiglie anti-rabocco. E poi non soltanto, un prodotto come l'olio ex-vergine di oliva oggi viene riconsiderato perché è un alimento funzionale, un nutraceutico, oltre poi ad avere naturalmente in sé tanti elementi sensoriali che naturalmente ci offrono un quadro completamente nuovo. Non è semplicemente un ingrediente da utilizzare in cucina, è anche questo, ma è qualcosa di molto altro, è un marcatore culturale secondo me. Io vorrei partire dalla presenza femminile e inizierei subito con Alessia Cipolla, designer, architetto, ma è anche sommelier AIS. Alessia Cipolla peraltro ha pubblicato un libro che ritengo essere un classico, proprio legato alla convivialità e questo libro, edito da Franco Angeli, ci spiega anche come allestire il tavolo e quindi come mettersi di fronte a una visione nuova quando poi tutto muta, perché oggi per esempio chi l'avrebbe mai detto che l'olio ex-vergine di oliva diventasse un prodotto da raccontare anche attraverso ciò che è l'arredo, è il tavolo di un ristorante, oltre che in cucina. Ecco, l'idea di un ristorante oliocentrico è qualcosa di molto peregrino, di campato in aria o è qualcosa di concreto che si può realizzare? Alessia Cipolla. Allora, grazie Luigi anche di questa domanda perché c'entra un po' il ruolo della tavola all'interno della ristorazione, all'interno anche di tutti i momenti conviviali. La tavola è lo specchio del momento storico che stiamo vivendo, è sempre stato così dai pallolitico fino ai nostri giorni, quindi in questo periodo storico stanno cambiando delle cose e ci sarà una grande necessità di affrontare nuovi spazi, nuovi tipiologi di servizio, nuovi strumenti, nuovi cibi. Quindi sicuramente l'idea della convivialità non cambierà mai perché è un'esigenza umana, però avrà degli spazi sicuramente anche per la ristorazione che cambieranno. Piano piano si arriverà un po' a questi cambiamenti. L'olio, come tu sai, è una delle mie grandi passioni, quindi pensare all'olio come il centro, come il concept di uno spazio ristorativo è una bellissima occasione, sarebbe, proprio per costruire attorno all'olio quello che l'olio rappresenta per i paesi mediterranei. Quindi potrebbe diventare il centro della costruzione di questo progetto, che quindi come una goccia d'olio si allarga, inizia a entrare attraverso il posto tavola, poi diventa padrone della tavola e poi diventa padrone della zona, diciamo, dining. Quindi potrebbe essere proprio una cosa molto interessante da considerare come appunto il ruolo dell'olio all'interno della nostra storia e quindi riuscire a inserire sulla tavola tutto questo patrimonio che noi abbiamo, che vuol dire colore, vuol dire materia e vuol dire anche però un sistema di degustazione, che è un nuovo modo magari di servire l'olio con appunto la possibilità di dare alla persona di degustare, quindi di avere di fronte a sé magari più modi di poterlo assaggiare, perché bisogna conoscerlo. Se si è stato fatto un grandissimo lavoro sul vino, come insomma lei io riconosco assolutamente, negli ultimi 30 anni, sull'olio c'è ancora questa grande potenzialità da non lasciare, da non tralasciare. Sicuramente e credo che siano anche maturi i tempi, nel senso che abbiamo da una parte delle aziende più recettive, non soltanto orientate alla qualità ma anche a differenziare, a mettere in evidenza le peculiarità. Dall'altra abbiamo anche degli chef, vero Francesca Bodini, che hanno una nuova visione, più moderna, perché considerano anche quegli elementi marginali, marginali in quanto diciamo in fatto di volumi l'olio se ne usa poco, se non in cottura, se non nella frittura, ma quando il piatto è già concepito, soprattutto verso i ristoranti stellati, il piatto non si modifica assolutamente, sarebbe anzi qualcosa di molto grave. Però esistono anche tante realtà che hanno un'altra visione di cucina più popolare, dove l'olio viene proprio richiesto, il condimento viene richiesto e quella aggiunta, quel filo d'olio, fa la differenza. Noi siamo ancora, diciamo, in un'ottica di Covid che ci un po' ingabbia, che ci mette un po' in difficoltà, però stiamo venendo pian piano fuori. Nel periodo più difficile, io cito un cuoco in particolare, Buttice, che naturalmente si è dato da fare non soltanto col delivery, e lo ha fatto egregiamente e con successo, ma attraverso non soltanto il ristorante, ma il bistrò, ha portato avanti anche un discorso legato alle materie prime, da porre anche in vendita. Ecco, secondo me è molto importante oggi concepire un ristorante aperto anche a queste altre opportunità, quello di essere selezionatori di prodotto, perché d'altra parte un ristorante seleziona il prodotto, e quindi far in modo che il proprio utente possa tornarsene a casa anche con l'olio, o con qualsiasi altro alimento che è stato appunto selezionato. Ecco, come può un'associazione come l'APC, l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, intervenire in questa fase di costruzione di un nuovo modello? Perché di un nuovo modello si tratta? Perché l'olio è stato oggettivamente trascurato. Ecco. Grazie mille. Grazie Luigi, grazie anche a Fipe dell'ospitalità e grazie per la domanda. Allora, sicuramente la differenza la fanno sempre le persone. Tu hai citato un esempio di un cuoco Vincenzo Buttice, che è a Monza, che è, dicevamo anche prima, sempre un passo avanti. Cioè lui ha preso veramente il momento più difficile che un ristoratore abbia potuto vivere, come è stato quello del Covid, per ripensare la sua proposta e ripensare come poteva rivolgersi ai suoi clienti e non perderli. Ha creato quindi dei format differenti, e questo è uno spunto, cioè il fatto di avere magari già un locale e riuscire a verticalizzare, a fare dei format paralleli al locale di partenza, magari o più semplici o che si rivolgano a un altro target, oppure più verticali proprio sulla tipologia di offerta di piatti. Ma anche quella di aggiungere una parte di gastronomia, se vogliamo anche un po' tornare, no? Tornare indietro, tornare al passato, quello che era magari la trattoria che ti offriva un determinato prodotto. Hai ragione tu, a volte... Secondo, vado avanti. Si sente comunque perché viene isolato. A volte degustiamo dei prodotti all'interno di un locale che ci piacciono molto, non riusciamo a reperirli in distribuzione e quindi chiediamo al ristoratore di proporceli, e non sempre il ristoratore preparato. Il compito dell'associazione è sicuramente quello di traghettare questo passaggio e di aiutare attraverso attività di formazione, incontri, incontri anche con altre associazioni, magari anche con mondi affini ma diversi, per dare ai nostri cuochi gli strumenti per poter compiere questo salto, che va fatto, che va assolutamente fatto perché la richiesta del mercato è sempre diversa e sempre differente. L'olio al centro, secondo me, in questa situazione di Covid, dove spesso non possiamo neanche più fare le tavolate nei ristoranti, ma abbiamo una convivialità più piccola, più raccolta, più ristretta, il ristoratore, secondo me, potrebbe giocare a questo punto su dei numeri più piccoli per far conoscere dei prodotti e per presentare delle proposte con l'olio o, come dicevamo, appunto, nel momento dell'accoglienza, prima dell'antipasto, a metà del passo, sono tante le formule che si possono trovare. Un altro punto che vorrei sottolineare è quello che è molto in crescita l'oleoturismo, quindi il turismo non solo legato al mondo del vino ma anche legato al mondo dell'olio, con percorsi, adesso in questo fine mese ci sono le giornate dell'olio nuovo, gli olivodei, che potrebbero anche accogliere al proprio interno, insieme ai produttori, anche ristoranti in determinate zone. Quindi, saper cogliere queste opportunità, noi ci facciamo promotore nel farlo, ma credo che proprio sia fondamentale. Grazie. Ecco, gli strumenti ci sono, forse quello che occorre aggiungere, anche i modelli a cui ispirarsi, perché guardando all'estero degli esempi positivi ci sono, quindi bisogna non importarli, ma crearne di nuovi, a mio parere, anche perché la creatività non manca. Qui per esempio abbiamo Paolo Barichella e Mauro Olivieri, che sono due designer e soprattutto food designer, hanno creato insieme con altri colleghi proprio una realtà che unisce queste competenze per valorizzare maggiormente proprio il designer applicato al food. Inizio da Mauro Olivieri per due ragioni, la prima perché è presidente della giuria del concorso Le forme dell'olio, proprio legato al design degli oli, che è stato utile perché ha fatto, diciamo, cambiare radicalmente la visione delle aziende olearie, che prima avevano bottiglie austere, bruttissime proprio, per non dire altro, e che oggi invece hanno quella sensibilità non soltanto di coltivare la bellezza, di raccontare l'olio attraverso anche un'estetica invitante, ma anche una funzionalità, un'ergonomia, quindi uno studio per fare in modo che quando la bottiglia sta sul tavolo di un ristorante non macchi la tovaglia, soprattutto che sia la bottiglia che abbia tutte le caratteristiche per essere quella bottiglia d'olio che rende anche elegante lo stesso ristorante che la ospita, ma l'altra ragione è che ha creato varie cose, tra cui Oliena, che è un modo di servire l'olio un po' inconsueto, diciamo, rispetto a quello che, diciamo, si nota fino ad oggi. Ecco, c'è molto spazio per la creatività e anche per creare, nello spazio di un ristorante, qualcosa di inconsueto, di diverso rispetto al passato. Cioè, al di là della consueta bottiglia, fare sì che anche gli elementi dell'arredo esterno, delle pareti, di ogni elemento che costituisce, diciamo, l'immagine di un ristorante, che ci siano anche quegli elementi distintivi in più. Ma partiamo da Oliena. Puoi dirci di Oliena, di questa, diciamo, di questo atto creativo che valorizza l'olio e nello stesso tempo anche offre un servizio utile al ristorante? Ma allora, intanto ho colto piacevolmente questa tua provocazione, se si può fare un ristorante oliocentrico, perché in realtà nella provocazione ci sta tanta realtà. È inevitabile che l'olio ormai è diventato un protagonista della tavola. Abbiamo assistito nei decenni a un disordine proprio, devo dire, sulle tavole della ristorazione. Abbiamo cominciato con, prima, come dicevi tu, le ampolle, poi abbiamo dovuto creare l'antintrusione, poi l'abbiamo tolto, abbiamo deciso che le bottiglie devono essere più grandi, poi più piccole. Oggi c'è qualcuno che maldestramente prova a mettere delle bustine, poi sono diventate bottigliette, eccetera. Questo è disordine. Ma quando c'è disordine è proprio perché non abbiamo un'idea. E allora si tratta qua di ripensare a un'idea nuova dell'utilizzo dell'ambiente più che altro. Allora, da designer non ti volevi fare una riflessione sull'ambiente soltanto, ma più che altro dobbiamo progettare un pensiero nuovo del consumare all'interno di un locale. Ecco, credo che gli chef oggi si stanno avvicinando, l'hanno fatto in passato. Ho avuto la fortuna di andare recentemente al Mirasur da Mauro Collagreco e lui sappiamo quanto teneva il tema dell'olio e ha creato questa bacheca che doveva raccontare il suo olio ripensato. Perché poi c'è un passaggio fondamentale. Un conto è prendere l'olio così come ti viene dato dal produttore per la quale tu hai selezionato l'olio che ti piace, in virtù anche del tipo di piatti che vuoi fare. E un conto invece è prendere l'olio ed elaborarlo per poter dire qualcosa di molto personale. Quindi non più il personale di chi lo produce ma di chi anche lo conferisce. Quindi quando si è intervenuti con oliena si voleva dire che questo strumento, chiamiamolo pure così, di porcellana, voleva dire è possibile esaltare questo olio? È possibile dargli una forma? Perché poi in questo disordine di cui si diceva la bottiglia alla fine scura, grigia o verde o color quercia come di solito è, faceva altro che nel versamento dell'olio andare sul pane, andare su un condimento senza poterne gustare le sue peculiarità. Non c'è bisogno di decantarlo l'olio come il vino, c'è bisogno di esaltarlo forse. E allora io non so se è giusto quello che ho fatto. Certamente comunque ha dato uno spunto, alcuni ristoranti lo stanno utilizzando, proprio per cercare un momento di convivialità legata alla narrazione dell'olio. Quindi non basta più che ti venga detto dal mettere, guarda che stai mangiando un olio, eccetera, ma è anche quello di capirlo. E capirlo tra i commensali è un momento di narrazione importante. Per cui Oliena ha la capacità, nella sua forma, di esaltare tutti i valori, la profondità del colore, il suo colore, la viscosità, la fluidità, e grazie a questo capire anche le caratteristiche del prodotto. Quindi ti direi che è un tentativo fatto alcuni anni fa, che comunque sta ancora funzionando, però era solo uno spunto un po' provocatorio per dire sganciamoci da questa bottiglia messa sulla tavola e nel concetto di olio centrico, che dici te, addirittura ci si può spingere ben oltre. Cioè diciamo che è un mondo completamente vergine da ripensare e da ristrutturare. Speriamo che grazie a questo momento, e in virtù anche di queste riflessioni che si fanno, che ci si possa rivolgere verso una chissà nuova visione e lì sappiamo come creare dei locali dove a quel punto si diventa oliocentrici in virtù proprio di come li vai a collocare i prodotti, non sarebbe male per iniziare. Poi la creatività non ha limiti come le note e quindi chissà. Certo, è proprio vero come hai detto, c'è spazio per la creatività e soprattutto c'è una certa virginità proprio, nel senso che pur essendoci un prodotto con 6.000 anni di storia e tuttavia non è ancora stato presentato come si doveva. E Paolo Barichella, che lui immagina, prefigura dei ristoranti, ma anche dei bar, perché io non mi fermerei soltanto al ristorante, oggi il bar è anche un caffè e un ristorante, quindi è molto aperto a fornire più servizi del passato e soprattutto pensare anche a locali nuovi da concepire proprio ex novo, dove addirittura può esserci un punto di ritrovo culturale, dove presentare romanzi, dove presentare anche dischi, dove presentare anche delle performance artistiche e nello stesso tempo essere un luogo in cui si va a consumare il pasto, a pranzo, a cena, dove si fa l'aperitivo. Quindi c'è spazio anche per delle idee nuove e soprattutto per delle concezioni, dei concept completamente nuovi. E tu sei proprio, Paolo Barichella, come designer, sei un creatore di spazi, immagini anche degli spazi che siano funzionali, ma che siano anche dei trasmettitori di un sapere attraverso anche dei piccoli segni, attraverso anche l'impostazione del redo e di tutto ciò che è necessario per poter intervenire in un ambito come il ristorante o il bar con questa visione completamente nuova. Noi oggi facciamo questa provocazione del ristorante biocentrico, può sembrare anche ardita per certi versi, però pensate che all'estero, negli Stati Uniti, ci sono queste realtà. Quindi noi non stiamo facendo una provocazione del tutto fuori luogo, visto che degli esempi concreti già ce li abbiamo. Paolo Barichella, prego. Sì, grazie. E' vero, effettivamente se noi guardiamo oggi quello che tu dicevi legato agli spazi, i nuovi spazi o spazi alternativi o come stanno mutando, in particolare dopo questo periodo di pandemia che tutto sommato ci ha dato una grande opportunità. Ha dato una grande opportunità di riprogettare tutto quello che è non solo gli spazi ma quello che è, è l'ospitalità e correggere degli errori che in decine di anni ci stavamo portando dietro. Quando si parla di ospitalità, di ricettività, è ovvio che si parla di spazi, ma si parla soprattutto di atti, modalità. Quando riceviamo qualcuno non dobbiamo mai dimenticare che per noi questo è un ospite. E io già qualche anno fa in un master che avevamo portato avanti con lo IED avevo lanciato una provocazione, c'era un importante brand di hotellerie all'epoca che sponsorizzava questo corso con i quali abbiamo lavorato a lungo sul concetto di ricevere qualcuno. e la mia provocazione è stata quella di dire guest is not yet a client. Quindi il concetto di dire che un ospite non è ancora un cliente e spesso e volentieri soprattutto negli ultimi anni il marketing, la parte commerciale ci ha portato a contare dei clienti che in realtà non sono clienti. Quindi quando noi riceviamo qualcuno prima è un ospite, una persona, poi se lui lo desidera e se noi siamo stati talmente bravi da farlo ritornare da noi diventa un cliente. E questo lo dico perché è un'abitudine spesso consolidata ma è una cattiva abitudine perché noi dobbiamo trattare le persone che vengono da noi come persone, primo, e come ospiti che vengono da noi per provare un'esperienza. E l'esperienza oggi è sotto vari punti di vista qualcosa da ricostruire perché adesso non stiamo a parlare di distanze perché io come tanti altri colleghi stesso Mauro con i quali insomma condividiamo anche un percorso insieme legato alla professione proprio in società vediamo quello che sono gli spazi come qualcosa da sviluppare in termini proprio di parlando di cibo esperienza. tant'è che abbiamo proprio creato negli ultimi periodi delle ospitalità quindi degli ospitality quindi degli come dicevi tu spazi che non sono più ristorante non sono più negozio a volte sono difficili anche da andare a descrivere perché la food experience come oggi si descrive oggi si può andare a vivere in un flagship store quindi un negozio a marca piuttosto che all'interno di biblioteche perché no adesso senza fare nomi già tempo fa una nota casa editrice nonché di vendita di libri si è messa a fare food quindi il food io dico sempre che è l'elemento che porta a ritornare in un posto e se noi parliamo di beni durevoli quello che può essere una concessionaria di auto uno showroom di divani quando ho una cucina stessa se devo comprare una cucina probabilmente vado una volta nello showroom poi difficilmente ritornerò anche lo spazio stessa cosa la macchina compro la macchina una volta forse quando faccio il tagliando la riporto ma se non ho un motivo per ritornare in concessionaria non ci ritorno il food invece ha la magia di fare questo di riportare le persone in un posto e rivivere quell'esperienza per questo ho iniziato dicendo guest is not yet a client perché è quanto più indispensabile per un operatore della ristorazione lavorare per far vivere un'esperienza a qualcuno e poter far ritornare questa persona a vivere quell'esperienza perché si crea un concetto di membership di appartenenza un senso di appartenenza che è quello che va fatto in questi spazi ora prendendo quello che tu dicevi come concetto e parlando di elementi puri elementi elementari quindi l'acqua l'olio sono comunque dei prodotti semplici tutto sommato che sono vitali l'acqua soprattutto noi siamo composti di acqua quindi quello che come primo atto noi abbiamo riscontrato perché è molto importante osservare per poter poi fare delle proposte di analizzare fare proposte la prima cosa che si vede quando si entra in un diner americano è che qualcuno ti porta una brocca d'acqua senza che tu debba consumare qualcosa necessariamente è proprio il primo gesto di ospitalità e la stessa cosa succede a Napoli col caffè ti portano prima del caffè ti mettono un bicchierino di acqua quindi il gesto di offrire l'acqua a qualcuno è uno degli elementi più simbolici parlando di ospitalità che uno possa immaginare perché noi che siamo fatti di acqua stiamo probabilmente privando il nostro organismo per dare l'acqua a un ospite che è venuto da noi e quanto più noi come dire fossimo nel deserto questo è ancora più valenza quindi io immagino questa cosa dove se in un ristorante arriviamo al tavolo e troviamo l'acqua o al bar arriviamo al bancone e troviamo l'acqua potrebbe essere interessante in un ristorante trovare già al tavolo una serie di bottiglie d'olio che raccontano anche qualcosa quindi è un elemento un elemento primario sul quale si può sicuramente costruire è vero è vero e la dottoressa Brogini che rappresenta qui questa grande realtà che è FIP la federazione italiana pubblici esercizi vorrei sentirla se vi sono anche le concrete possibilità attraverso la formazione attraverso quindi anche delle iniziative che possano essere diciamo come dire l'apertura a una nuova visione anche tra coloro che gestiscono un pubblico esercizio e coloro che poi sono le aziende olearie ma che possono essere anche altre imprese per esempio a me è venuta in mente qualcosa che reputo molto importante molto spesso l'impresa olearia vuole vendere un prodotto giustamente perché poi c'è dall'altra parte chi fruisce di quel prodotto e deve presentarlo al proprio pubblico però io credo che l'impresa olearia non debba limitarsi a vendere ad avere una relazione commerciale ma debba offrire anche un servizio e non soltanto un servizio sono convinto che l'impresa olearia debba anche investire del danaro per favorire una collaborazione che consenta a un ristoratore a chi ha la titolarità di un pubblico esercizio di agire anche più serenamente nel senso che il rischio di una nuova iniziativa sia condiviso e dal titolare del pubblico esercizio e anche dall'impresa olearia ma potrebbe essere impresa vinicola impresa di ogni altro alimento che si produca ecco è una strada possibile FIPE può concretamente attivarsi anche per creare questa nuova sensibilità nei propri soci? io penso di poter rispondere a questa domanda con una riflessione una riflessione che è un po' la sintesi del concept che abbiamo presentato in questi giorni in questo stand parlando di ristorazione 4.0 declinata come ristorante FIPE aperto sicuro ed ecosostenibile che cosa abbiamo voluto rappresentare tutti parlano di ripresa però la cosa più importante al di là dei numeri e delle statistiche è quello di dare una visione di futuro all'operatore al ristoratore all'associato che in questi periodi di pandemia ha dovuto affrontare delle situazioni al di là della crisi economica ma degli stress psicologici pesanti perché penso che non sia niente di più drammatico che non poter lavorare avere tutte la strumentazione la mise en place pronta e non poterlo usare quindi come se ne esce da questa situazione di stress costruendosi un futuro e quindi anche affrontando dei cambiamenti dei cambiamenti in parte obbligati e in parte determinati dalla voglia di ripartire e di fare cose nuove e quindi non a caso anche questo talk show chiude queste cinque giornate lunghe perché sono convinta che quando si parla di ripensare gli spazi non può essere ridotto al ripensamento dello spazio fisico quello ha assolutamente una sua importanza abbiamo visto durante il periodo della pandemia uscire da giornali più o meno esperti affermazioni assurde compreso quello di non saper calcolare l'area ma è pur vero che occorre effettivamente darsi una regolarità su come si usano gli spazi abbiamo parlato questa mattina di salubrità ma salubrità e quindi qualità non solo di prodotto ma anche di ambiente cosa che gli chef sul prodotto ci hanno insegnato cose fantastiche sanno perfettamente come valorizzare un prodotto forse tutte queste componenti vanno messe insieme quindi senz'altro il futuro non sarà una ripetizione del passato dovremo per forza fare dei passi avanti e i nostri operatori sono capaci anche di affrontare cambiamenti perché non dimentichiamo mai che in un ristorante c'è senz'altro un manager ma c'è anche un cuoco c'è anche un esperto di prodotti sa valutare il territorio sa come realizzare bene queste cose e la FIPE se voi andate a vedere il programma dei talk show di questi cinque giorni sono argomenti che ha toccato adesso eravamo in una fiera e quindi si lanciano delle idee poi vanno coltivate come diceva Francesca sono sempre determinate dalle singole persone ma le persone quando stanno insieme e seguono un fil rouge un sentiment determinato da un'associazione nasce una contaminazione positiva all'interno e quindi sono convinta che qualsiasi idea nuova che sia volta a valorizzare un prodotto a valorizzare un territorio a valorizzare una cucina a valorizzare un ambiente e quindi che consenta di vivere un'esperienza a 360 gradi è un modo nuovo per ripartire e l'olio ha senz'altro tutte queste caratteristiche diciamo che altri prodotti l'hanno forse rappresentata meglio in passato sono d'accordo con voi che sull'olio bisogna educare di più educare non solo come prodotto alimentare come prodotto salutistico ma anche come utilizzare come valorizzare questo prodotto e anche come presentarlo esempi del vino che hanno delle belle etichette l'etichetta dell'olio è da poco tempo che si inizia a leggere che la si inizia a guardare però forse il consumatore è più attento guarda il colore non sa bene forse quali sono le differenze però così come c'è lo chef che viene a raccontarti il piatto se ti raccontasse anche il prodotto e ti raccontasse anche il territorio di quel prodotto ecco che nasce uno storytelling con un suo fascino e allora diventa un'eccellenza anche la semplice michetta è proprio così oggi non abbiamo con noi Michelangelo Raiola della scuola istituto alberghiero essendo io di Varese lo conosco perfettamente ecco perché c'è stato un inconveniente che quindi non è stato possibile ma l'esempio di questo istituto alberghiero è molto importante in quanto è la prima scuola in Italia azienda scuola azienda e credo che non debba essere l'unica perché le scuole non devono gli istituti alberghieri non devono fare diciamo le loro prove didattiche per se stessi ma finalizzate a un pubblico esterno perché responsabilizza il gesto la preparazione perché significa avere un pubblico che ti giudica e questo apre anche a uno scenario nuovo come formazione di nuovi professionisti sono i ristoratori del domani quindi vanno formati ristoratori chef personale di sala facciamo il secondo giro prima di concludere quindi torno con Alessia Cipolla Alessia Cipolla peraltro recensisce anche gli oli anche perché poi è un'assaggiatrice un sommelier del vino ma ora naturalmente si confronta con questa materia prima ecco in quanto designer in quanto quindi creativa questo assaggio quanto influisce sul sul pensare delle soluzioni nuove nel senso che io quando conosco il prodotto e ho una conoscenza diretta un approccio quindi con il prodotto in quanto tale cambia lo scenario un conto è progettare qualcosa sull'olio senza conoscerlo a sufficienza ma conoscendo la complessità l'Italia per esempio ha 538 cultivare significa non soltanto 538 tipi di oli differenti ma facendo i blend diventa un'infinità quindi tutto questo contribuisce sicuramente a modificare la nostra idea di olio e la percezione che ne abbiamo e quindi anche presentarlo alla fine cambia del tutto lo scenario e quindi non si fa qualcosa un manufatto e non lo si crea così soltanto a livello teorico ma perché si è avuto un approccio diretto e pratico è così? Sì allora io faccio parte diciamo ho costituito da tantissimo tempo un gruppo di lavoro che si chiama la costruzione del gusto dove siamo architetti designer graphic designer però ognuno di noi ha un po' più di una passione sul cibo quindi io sono sommelier da 30 anni però sono anche maestra assaggiatrice salumi il mio grafico è appassionatissimo di cioccolata ce n'è un altro di caffè e questo perché per me è sempre stato molto importante conoscere il prodotto se tu conosci il prodotto riesci anche a dare una risposta sugli spazi quindi sull'architettura e anche sugli oggetti e questo è una caratteristica che voglio mantenere anzi continuiamo a formarci continuiamo a fare delle degustazioni alcune volte anche in studio divertentissime in modo da comunque approcciarci al prodotto conoscere il prodotto olio è un mondo ed è una storia bellissima quindi io mi occupo appunto di storia della cultura a tavola quindi per me è una grande passione ma è anche una parte del lavoro che sta diventando importante e la storia della cultura a tavola passa anche attraverso i prodotti e l'olio nella storia della cultura a tavola ci è entrato e uscito in varie maniere quindi la partenza è quella che conosce il prodotto conosce il mercato conosce il packaging come stanno andando le cose quindi continuare a informarsi e a formarsi e questo lo faccio con tutto con me stessa tantissimo anche con il mio gruppo di lavoro e poi da questo si può quindi elaborare e quando tu conosci le caratteristiche anche il modo in cui questo prodotto deve essere servito al meglio per essere degustato al meglio per essere raccontato conosciuto allora puoi costruire poi uno spazio che può essere un oggetto quindi un posto a tavola dedicato all'olio oppure può essere proprio un ambiente che prende quindi quelle caratteristiche che sono fondamentali proprio per la progettazione sia come architetto che come designer grazie Alessia Cipolla Francesca Bodini ecco Olio Officina organizza ogni anno il forum Olio Ristorazione pensato proprio per unire questi due mondi che non sempre hanno dialogato perché il confronto è stato soltanto di natura commerciale invece bisogna andare oltre ecco cosa si può realizzare attraverso un'associazione così importante così radicata così distribuita uniformemente su tutto il territorio ci possono essere delle iniziative che possano favorire una crescita per tutti anche per le imprese e le aree perché molto spesso noi ci illudiamo che la responsabilità di qualcosa che non va sia da attribuire allo chef o al ristoratore o al personale di sala in realtà c'è una responsabilità collettiva perché se finora non si è stato in grado di raccontare un prodotto che rappresenta l'Italia vuol dire che ci sono state responsabilità diffuse ecco si possono creare delle iniziative comuni anche di formazione? Allora assolutamente sì direi che le due parole che mi girano mi frullano nella testa in questo momento anche sentendo i discorsi di chi si occupa di un mondo affine ma diverso sono sicuramente due contaminazione e competenza allora la competenza nella conoscenza del prodotto ovviamente dell'azienda dello chef ma assoluta e che manca ancora del personale di sala è il personale di sala che accoglie il cliente è il personale di sala che racconta un prodotto quindi nel momento in cui io cambio anche il format o comunque il concept del mio locale devo però avere anche del personale di sala in grado di raccontare perché ho cambiato il format come gli propongo i prodotti e che cosa gli sto proponendo se gli metto degli oli al centro cosa sono perché il pane gli abbinamenti che posso creare contaminazione sì e in questo noi lavoriamo tantissimo lavoriamo come e abbiamo lavorato anche durante il covid noi siamo rappresentati da delle delegazioni regionali che tendenzialmente rappresentano dei territori quindi mettendo a disposizione le competenze dei nostri chef che spesso sono sia chef che ristoratori di una regione che può essere una regione del sud con una regione del nord che lavora su piatti e su ricette completamente diverse su uno storico culturale della cucina e della gastronomia completamente diverso che deve arrivare a conoscere questi prodotti e magari inserirli nella propria proposta e nella propria offerta questo sicuramente permette appunto di fare quel passo avanti di cui parlavamo prima che alcuni hanno già fatto e che tanti invece devono essere aiutati a fare è chiaro che per questo serve tanta collaborazione tanto lavoro di network e tanta anche voglia loro dei cuochi e dei ristoratori di mettersi in gioco per capire che questa è un'opportunità di crescita ma il lavoro sulla sala è fondamentale ed è ancora davvero indietro tanto indietro è proprio vero è proprio vero e viene anche poco valorizzata la figura stessa di che è in sala spesso le ricette non vengono valorizzate cioè la sala deve guidare chi arriva è la sala che ti fa diventare guest cliente perché se tu hai mangiato bene ma ti sei trovato male non torni più in un ristorante io stessa da consumatrice da cliente non torno resto guest grazie a Francesca Bodini Mauro Olivieri mi ha stupito del tuo lavoro non soltanto il fatto di essere un designer e quindi di affrontare ciò che un designer di solito prende in considerazione quindi le forme quindi concepire delle idee nuove da poi poter usufruire e vedere e ammirare ma tu hai creato anche dei prodotti per esempio l'idea dell'aceto da grattugiare quindi parliamo ora di un altro condimento che viene ulteriormente penalizzato perché mentre l'olio sta conoscendo un rinascimento e una riconsiderazione l'aceto invece è ancora concepito come qualcosa di andato male quindi il vino che non è proprio perfetto e quindi poi si acetifica quando invece c'è tutta una progettualità ecco il discorso si può ampliare pensando ai condimenti ai correttori di gusto l'idea stessa dell'aceto da grattugiare che mi ha stupito perché naturalmente è una innovazione di prodotto non l'ha fatto secondaria perché rivoluziona anche il modo di percepire il prodotto stesso un conto è versare l'aceto un conto è grattugiarlo beh sempre nell'ambito di questa ricerca continua che è quella di creare non soltanto emozione fine a se stessa ma è quella di cercare di elevare i prodotti quando ha fatto l'iena era per cercare di costruire un qualcosa di narrazione sull'olio serviva anche per l'aceto serve anche per l'aceto l'aceto voi sapete bene è una bottiglia che noi ci compriamo facciamo difficoltà al supermercato ad acquistarla a 3 euro e 50 e che ci durerà un mese e mezzo probabilmente in casa mentre una bottiglia di Montalcino di 40 euro ce la fumiamo in una sera allora questa educazione che c'è anche nell'olio soprattutto nell'olio è paritetica con l'aceto quindi camminano insieme quindi nella narrazione di cosa si doveva andare a scoprire di questo aceto il fatto di portarlo a una nuova sensibilità è stato proprio un percorso che nasce dalla storia l'aceto una volta veniva usato come finale del pranzo come digestivo e veniva così consumato con un cucchiaino e doveva essere il più denso possibile beh allora siamo dei costruttori di progetti noi e quindi questo denso ci siamo un po' spinti a densarlo ancora di più dove si arriva dove si arriva siamo arrivati a renderlo solido e qui andiamo a grattugiarlo però da lì sono emerse altre peculiarità dell'aceto che quando lo metti in bocca hai anche dei crunch ha anche degli altri aspetti sensoriali che aiutano tantissimo quindi ecco non so dire se l'olio ha possibilità qualcuno timidamente ha provato a radensarlo ha provato tutto certo la purezza resta sempre l'elemento principale per esaltarne il valore però se mi permetti mi è piaciuto un intervento di Francesca quando parla appunto di questa necessità di educare non solo le persone ma il personale ecco su questo anche mi sono un po' spinto io nel passato a cercare di capire come attivare questo processo di unione fra chi ti dà il cibo da chi te lo prepara a chi te lo consuma in quel luogo che è una simbiosi che deve essere bilanciata perfettamente non entriamo nel gioco se è meglio il bianco il nero la sedia nera o la cosa per un attimo lasciamo da parte anche se sono se sono degli elementi che devono interagire con una perfezione assoluta ma soprattutto nel merito della costruzione del percorso della narrazione anche nelle persone ho ipotizzato il concierge da sala cos'è il concierge da sala? è quella figura che è una crescita del maître cioè la parte che viene dopo al maître se il concierge come ha anticipato Francesca deve avere la capacità di intuire il cliente perché è lì quella sera e quindi se è giusto che quella narrazione possa essere fatta in un certo modo quindi è un altro aspetto fondamentale se vuoi raccontare un prodotto l'educazione è anche nel costruire un percorso poi mentre lo stai consumando da lì è nato il progetto Ottavo Senso che porto nei ristoranti io devo dire che lo faccio a livello ludico ma però dentro c'è tanta ricerca è proprio quello di in due ore unire delle persone in un ristorante e narrare quello che stai consumando quella sera insieme allo chef ma lo chef resta in cucina ma lui lo ha narrato lì dentro ma ci va qualcuno che lo sappia dire non perché io non so cosa sto mangiando ma perché ci sono dei risvolti molto nascosti dove nessuno ancora si è addentrato per cercare di capire cosa stai consumando e in un'eventuale serata dedicata all'olio o momenti dedicati all'olio questo è fondamentale quindi questa figura del consierge da sala alcuni istituti alberghieri la stanno ipotizzando è una 400 ore che aggiunge una targhetta con Sergio da sala al metere e che la mette qui attaccata con il velcro e che ti dice e ti dà qualcosa di più sono 400 ore di analisi su questa capacità di sapersi connotare insieme al tuo cliente che in quel momento è il tuo ospite come dice giustamente Paolo e che in quel momento ha bisogno di tanto per poter essere detto grazie Mauro Olivieri e ora la parola invece a Paolo Barichella ecco oggi ci sono delle imprese che producono appunto beni di consumo come l'olio come il vino ma soprattutto il vino che si sta aprendo di più perché c'è anche più familiarità con il mondo della ristorazione aprire proprio dei propri luoghi li definisco luoghi perché raccontano qualcosa di molto più ampio perché non si fermano soltanto nella consumazione dei pasti proprio nella zona Garibaldi a Milano c'è un un ristorante che non è soltanto ristorante di una casa vinicola molto importante che ha creato proprio un format per accogliere i propri clienti e nel stesso tempo fornire dei servizi quindi la ristorazione è possibile intraprendere questa strada da consudente cosa consiglierebbe consiglieresti chiedo scusa cosa consiglieresti a un'impresa che vuole portare avanti un progetto del genere dove ovviamente c'è la collaborazione anche di chi poi si occupa di ristorazione in senso stretto perché un'impresa olearia o vinicola o altro non può fare questo deve comunque farlo in sinergia con altri quindi creare una società apposita dove ci siano vari soggetti che portino avanti un progetto simile in che modo poter iniziare questo percorso e che consiglio daresti? ma qui si riallacciano un po' di tematiche che emergevano poco fa sul discorso della sala eccetera eccetera poi mi spiace usare sempre parole inglesi perché vengo molto criticato su questo ma sono molto efficaci per descrivere la cosa quindi tu stai parlando di un flagship store quindi di un negozio a marca di quello che può essere un'attività una fabbrica o qualcuno che produce un prodotto quindi ritorno su un'altra parola inglese che è lo storytelling quindi la capacità di raccontare una storia e un negozio a marca uno spazio dove si racconta una storia è importante proprio perché lì si può costruire come dire non tanto l'esperienza quanto la predisposizione per arrivare a vivere l'esperienza che conta molto di più dell'esperienza stessa quindi quanto più noi siamo capaci di predisporre la persona a vivere quell'esperienza quanto più quell'esperienza sarà efficace ecco quello che è importante proprio su questo si parla sempre c'è sempre questa guerra con gli chef sala contro cucina cucina contro sala in realtà è tutta un'unica cosa fondamentalmente per quello che secondo me è il principio ed è qui quello che si deve fare investire di più sulle persone che devono raccontare quella storia perché il miglior prodotto raccontato male non riuscirà mai ad essere efficace quindi in un flagship store quindi in uno spazio dove si racconta una storia non investire su chi deve raccontare quella storia vuol dire mettere un teatro senza un attore un bel palcoscenico qualcosa che passa davanti e nessuno che lo sa interpretare quindi come nel teatro si investe sugli attori o nel cinema si investe sugli attori è necessario soprattutto in uno spazio dove si vive un'esperienza gastronomica che chi la deve raccontare non dico che sia all'altezza sia oltre che essere all'altezza di quello che è questo compito per questo che io più delle volte quando parlo con i colleghi chef con i quali insieme a Mauro abbiamo lavorato praticamente con tutti quello che consiglio sempre e non sempre vedo che accade è che lo chef esca e sia lui lo storyteller perché il miglior storyteller che può esserci in un ristorante è lo chef gli chef che sono chiusi in cucina come dire non perdono un'opportunità di raccontare qualcosa non ai clienti ma agli ospiti che ci sono e che poi diventano clienti ma peggio ancora gli chef che non ci sono proprio in cucina o al ristorante quelli come dire che adesso non faccio nomi perché sono quasi tutto in televisione quindi ecco non sono in cucina esatto non sono al ristorante quindi però ecco questa è un'opportunità ancora più persa quindi è uno dei motivi per cui poi nascono come dire nuovi fenomeni e parliamo del delivery il delivery benvenga per carità perché è una nuova modalità io non sono uno che vuole criticare il delivery però se vogliamo far vivere un'esperienza a qualcuno in un ristorante ed è in sala non possiamo trasferire o pensare di trasferire la sala di un ristorante a casa di qualcuno perché o ci mandiamo qualcuno che non è il motorino con il cubo in spalla ma qualcuno che racconta qualcosa altrimenti perdiamo un'altra opportunità e il ristorante in questo momento sta rischiando di perdere la sala con tutta questa serie di cose ed è secondo il mio punto di vista una grave perdita verissimo verissimo grazie Paolo Barichella dottoressa Progini concludiamo con lei facciamo un po' un resto conto di quanto abbiamo ascoltato io credo che c'è spazio per l'ottimismo perché c'è una maggiore consapevolezza dei ruoli da ricoprire e oggi tutti quanti sono consapevoli del fatto che ciascuno deve apportare la propria professionalità e soprattutto ci deve essere una sinergia una collaborazione molto stretta ecco la FIPE è un organismo molto importante perché essendo radicato su tutto il territorio ed essendo poi così attivo da lungo tempo a tutte le premesse per poter anche farsi portavoce di queste iniziative io per esempio anni fa con un consorzio di una DOP avevo per incentivare la presenza sulle tavole degli oli del territorio che molto spesso mancano parlo delle DOP delle GP ho detto facciamo qualcosa che non impegni le persone sul piano economico facciamo due cartoni di olio che significano 12 bottiglie quindi è poco è nulla l'impegno di prendere almeno 12 bottiglie nell'arco di 12 mesi in modo da poterle comunque tenere al ristorante farle vedere perché si trasmette anche un messaggio ecco questa è stata un'iniziativa che è stata portata avanti con Conformercio Imperia ecco iniziative simili o altre soluzioni possono essere sicuramente utili cosa può fare concretamente una realtà così importante come FIPE ma allora lei mi ha chiesto una conclusione e quindi non è facile perché abbiamo toccato tanti temi e l'ultima argomentazione che lei ha proposto pone un'ulteriore riflessione è vero FIPE è dislocata su tutto il territorio nazionale però FIPE trova delle realtà che sono presenti in città come Milano Milano Roma nelle capitali ma ci sono anche i paesini sperduti a Chamois che non c'è la strada che non ci si arriva che ci sono 60 abitanti c'è un bar quindi un pubblico esercizio lo trovi dappertutto ci sono cambiamenti in atto cambiamenti che abbiamo visto come la tecnologia può aiutare a risolvere dei problemi e ci sono necessità di tornare a valorizzare le tradizioni del territorio organizzare meglio la conoscenza del prodotto dare un ruolo nuovo allo chef e valorizzare la sala cosa può fare FIPE FIPE deve affrontarli tutti questi problemi certo non può proporre in maniera indifferenziata la gestione del cambiamento prima di tutto perché è un fatto individuale e poi perché ci sono realtà molto differenti tra di loro quindi senz'altro una profilazione dell'associato FIPE è un discorso che il nostro ufficio studi fa continuamente tutti i giorni e quindi in una analisi dettagliata finalizzata in qualche modo saprebbe anche ben orientare l'iniziativa perché è chiaro che ripeto l'esempio del di Chamois senza strada non vai a proporre un discorso tipo quello che abbiamo fatto oggi però stanno sviluppando la fontina l'estrema che è la fontina dal peggio quindi il prodotto di per se stesso se vogliamo valorizzarlo e raccontare in maniera corretta uno stortelling è legato al territorio certo il flash store lo può valorizzare ma non è detto che sia solo il flash store può essere proprio la realtà locale che lo racconta lo racconterà magari in maniera diversa io ricordo non so dire esattamente dove ma ricordo parecchi anni fa in toscana di essere stata in un frantoio che aveva anche il suo piccolo ristorante ma attenzione il ristorante si chiamava posto per due no ma perché aveva effettivamente un solo tavolo per due persone e mi aveva così incuriosito che avevo provato a telefonare un anno di prenotazione perché è chiaramente però è chiaro che era un modo per raccontare il suo prodotto un format così non è certo proponibile altrove quindi dal mio punto di vista al di là di quelle che ripeto potrebbero essere le azioni mirate che il centro studi potrebbe sviluppare meglio guardando al futuro quindi un trend lontano potremmo dire che la ristorazione va in due direzioni che sono apparentemente opposte ma che rispondono a due esigenze diverse e che vanno a modificare a mio modo di vedere quello che era il concetto di oreca che avevamo perché quando si parlava di oreca si parlava di ospitalità di hotellerie di ristorazione eccetera era il stare fuori casa mangiare fuori casa oggi oggi anche per lo sviluppo e la tendenza positiva che ha avuto la delivery lo sviluppo del consumare il cibo in maniera diversa probabilmente avremo due direzioni la ristorazione senza cucina chiamiamola così che contempla tutto poi dopo il robot che schiacci il bottone e ti dai il risotto con i funghi o al castelmagno non credo che ci sia bisogna almeno sapere che esiste il castelmagno come lo devi mettere e via di seguito ma quella sarà una ristorazione che molto probabilmente andrà a rodere spazio a quella che chiamavamo il fast food cioè la ristorazione veloce mentre invece la ristorazione di destinazione avrà ancora più valore perché si differenzierà in modo totale da quella veloce molto brevemente quelli che dovranno affrontare un maggior cambiamento sono quei locali che sono ibridi che non sono un bistro e non sono così caratterizzati da essere locali di destinazione nel momento in cui io costruisco un format sia di struttura di architettura di design se voglio collocarlo visto che il finanziamento che richiede la realizzazione di un ristorante non è basso e quindi arredarlo bene ma arredarlo in funzione del format in funzione del menu che voglio fare in funzione della sicurezza e del benessere che voglio dare ai miei clienti fidelizzarli significa avere veramente in mente qual è il cliente che voglio servire come voglio servirlo in che modo voglio farlo star bene cosa voglio dargli allora a questo punto posso costruire un format anche attorno alla cipolla perché no ogni prodotto ha la sua caratteristica diventa l'elemento attrattore e il personale deve essere formato e scelto nella capacità di di essere consapevole che svolge un ruolo di attore su un palcoscenico e ciò che si svolge in quel locale è la storia che racconto è l'esperienza che vivo e allora molto probabilmente saranno minori di numero più qualificati con una marginalità più alta perché per andare a provare quel locale per provare quell'esperienza sono anche disposto a spendere di più e magari a programmazione e aspettare anche un anno perché il ristorante è completo allora in questo modo anche la formazione si alza di livello perché avremo proprio due linee di formazione il giovane che lavora in una chiamiamola fast food in un bestroo o in una dark cooking ha bisogno di una formazione completamente diversa da quella che lavora in un ristorante di destinazione e quindi io sono convinta che Fipe che ha la capacità e che lo ha dimostrato anche in questi giorni di cogliere quali sono le tendenze dei cambiamenti in atto riuscirà anche a profilare quelle che sono le esigenze del mercato e da lì orientare la formazione chiudo dicendo che una volta il barista sapeva fare il caffè non aveva bisogno di finanziamenti perché faceva un contratto di somministrazione con chi gli dava la macchina e lo obbligava a comprare quel tipo di caffè e sopravviveva perché la sua logica era collocarsi in una posizione magari vicino alla stazione dell'autobus così tutti passavano a prendere il caffè qual era la marginalità o il food cost del suo caffè parole che non sapeva neanche cosa significassero oggi per fare i discorsi che avete annunciato voi e che condivido pienamente bisogna pensarci bene prima di iniziare e quindi qual è l'investimento che devo mettere a disposizione ieri si diceva se voglio fare una start up con un applicativo digitale posso anche partire con una piccola società di 10.000 euro poi dopo cresco la sviluppo eccetera voglio fare un ristorante di destinazione forse devo aggiungere un po' di zeri a quel 10.000 e neanche la ricerca di processo l'elaborazione sui prodotti la selezione dei prodotti richiedono formazione competenza abilità che se io non ho devo andare a cercare e quindi sono professionalità alte e costose quindi senz'altro avremo posto per tutti dalla dark cooking all'alta destinazione con il ristorante un posto per due che probabilmente esiste ancora benissimo grazie dottoressa Brogini per la Fipe grazie anche per questo spazio dato gli officina per noi è una sorta di anteprima di quello che avverrà io l'ho invito dal 10 al 12 febbraio a Milano al palazzo delle stelline dove faremo addirittura la undicesima edizione di olio officina festival parlare di un festival dedicato all'olio e ai condimenti che giunge alla undicesima edizione poi a Milano è un grande successo vuol dire che c'è comunque una rivoluzione culturale per cui l'approccio con materie prime così diciamo conosciute ma nello stesso tempo di cui si ha poca consapevolezza sta portando dei buoni frutti quindi questo processo culturale è in atto e sono molto contento sono molto contento dell'area Fipe che è stata veramente un fulcro di grandi riflessioni e sono contento per queste sue riflessioni finali ringrazio Francesca Bodini che appunto è qui per qualità di responsabile istituzionale della comunicazione di questa grande associazione che è l'associazione appunto professionale Cuochi Italiani ringrazio i designer Paolo Barichella perché le sue preziose riflessioni sono molto importanti e io mi auguro che poi queste figure vengano coinvolte dagli addetti ai lavori perché bisogna lavorare su più fronti e utilizzare tutti i professionisti sul campo ringrazio Alessia Cipolla che ha questa capacità di raccontare l'olio di raccontare il vino di raccontare molto altro che unisce anche al design e alla capacità di raccontarlo anche pensando quindi a una collocazione anche degli spazi all'interno del tavolo del ristorante confidenzialmente ci eravamo detti di quanta poca letteratura ci sia su questo aspetto quindi saremo noi a fare questa nuova letteratura ringrazio quindi Alessia Cipolla e ringrazio infine Mauro Olivieri per questo perché dobbiamo proprio attraverso queste continue sollecitazioni trovare nuovi percorsi è il periodo giusto al di là di questa situazione un po' complessa dettata dal covid però sappiamo che storicamente ciclicamente questi episodi accadono e quindi non dobbiamo diciamo essere pessimisti quindi anzi avremo nuove energie e grazie ancora anche alla regia di Sauro Angelini che ha permesso appunto questa rappresentazione visiva dell'incontro saluto il pubblico che è qui in sala e naturalmente ci segue in collegamento e vi aspetto dal 10 al 12 febbraio a Olio Officina Festival grazie ancora per questa disponibilità da parte di FIP nel portare avanti questi progetti comuni grazie ancora a voi tutti grazie